Buonasera e benvenuti alla nuova edizione della FiloVisione. Quindi cambiamo un po' il metodo, cambiamo un po' il messaggio quest'anno, cerchiamo di essere più esaustivi e di dirvi più cose durante il nostro consueto appuntamento. Partiamo subito con la programmazione al Cinema Filo di questa settimana, quella che finisce con domenica 29 settembre, perché venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 abbiamo in programmazione Il Tempo che ci vuole di Francesca Comencini. Il film autobiografico racconta la storia della sua infanzia con suo padre, il grande Luigi Comencini, durante tra l'altro le riprese di Pinocchio, il famoso Pinocchio, con Franco Franchi, Ciccio, Ingrassia e Geppetto interpretato dal grandioso Nino Manfredi. Il Tempo che ci vuole, quindi una storia biografica, racconta la storia del rapporto tra padre e figlia che cresce e che cambia, lei Francesca diventa grande, lei aveva già affrontato questo discorso in un primo film circa una decina d'anni fa, in questo troviamo Fabrizio Giffuni, un grandissimo attore italiano, fortunatamente riscoperto negli ultimi anni, Fabrizio Giffuni, esterno a Otte, dove interpretava la parte bravissima tra l'altro di Aldo Moro, la meglio gioventura, Pito, la ragazza del lago, grandissimo attore che ha come controparte, che interpreta la figlia appunto Francesca, romana, maggiore a Vergano, che è quasi un esordiente al cinema, l'avete vista sicuramente, era la figlia, la figlia della Cortellesi, in C'è ancora domani. Quindi, film di Francesca Comencini, ottime recensioni, presentato Venezia, ottimi riscontri, dovete assolutamente venire a vederlo, anche perché il rapporto padre-figlia è sempre un argomento, soprattutto se autobiografico, è sempre un argomento che tocca il cuore, e in questo caso Francesca Comencini c'è sicuramente riuscita. Vediardì 27 settembre, sabato 27 e domenica 28 e domenica 29. Poi abbiamo questa grandissima diatriba, che fa parte del cinema ritrovato, sapete che noi portiamo in sala la Cineteca di Bologna, con il suo calendario, il suo cartellone, il cinema ritrovato, e quest'anno abbiamo avuto, per un pugno di dollari, di Sergio Leone, che è stato restaurato, ed è stato anche restaurato Yojimbo, La sfida dei samurai, che è il film che Sergio Leone avrebbe plagiato per fare, appunto, per un pugno di dollari. Quindi, trascendo dalla storia che ci sta, da questa, che narra questa copiatura, però dovete assolutamente venire a vedere di Kurosawa La sfida dei samurai. Diciamo che è l'artefice, la genesi, che poi ha generato per un pugno di dollari, tant'è che il cinema ritrovato li ha messi in cartellone tutti e due. Lo potete venire a vedere al Cinema Filo, sia mercoledì 25 settembre alle 21, che sabato 28 settembre alle 18. Prosegue anche la nostra rassegna Filo Cine Kids, con il film per i bambini a 5 euro, il sabato pomeriggio alle 16, e questa settimana, il sabato 28 settembre alle 16, abbiamo il film d'animazione Garfield, e, ve lo ricordate, il gatto che ama le lasagne, per i vostri figli, 5 euro al cinema, è un evento assolutamente da non perdere. Vi anticipo anche che a ottobre, partendo dal 31 ottobre, quindi diciamo più a novembre, avremo due grandi film, avremo The Apprentice, Alle origini di Trump, che narra la storia dell'ascesa di Trump, ed è un periodo abbastanza indicativo per raccontare la sua storia. Poi dal 31 ottobre avremo Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segra, con Elio Germano, che racconta appunto la storia della lotta politica di questo grande esponente della sinistra italiana. Quindi dovrei avervi detto tutto, anche prossimamente, vi aspetto quindi assolutamente con tutti questi appuntamenti, a partire dal tempo che ci vuole di Francesca Comincini, vi aspetto al Cinema Filo, grazie di cuore e buona filovisione.